Buonasera a tutti, benvenuti al saggio di chitarra elettrica e la chitarra classica è anche basso, inizierò io che sono Nel Cello, poi ci sarà Daniele e finirà qui. Allora, il primo pezzo che presentiamo sono tutti i pezzi che dovrebbero essere cantati ma non avendo accantato per fare questo in Italia. Comunque, il primo pezzo si chiama Wish You Were Here with the Floyd, suoneranno Sherif alla chitarra, Antonio alla chitarra e Dario alla batteria. Dario è un sinistro dedicato. Ok. Allora, 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 allora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.